oggi 27 gennaio 2021 commemoriamo il giorno della memoria con la deposizione nei luoghi della memoria di bologna memoriale della shoah in piazza memoriale concertosa monumento agli itali caduti nei lager e lapide dedicata agli zingari deportati alla torre di maratona dello stadio dall'ara l'apide che ricorda arpa advice nel giardino di villa cassarini a porta sargozza l'apide in ricordo delle vittime omosessuali in via pietralata 60 l'apide dedicata alla scoletta ebraica in piazza nettuno l'apida aned alla memoria dei deportati l'apida anei alla memoria degli internati sinagoga l'apide in memoria dei deportati ebrei sono presenti il sindaco virginio merola la presidente del consiglio comunale luisa guidone il presidente della comunità ebraica daniele de pazzi il rabbino capo della comunità ebraica di bologna bravo alberto sermoneta e l'arcivescovo di bologna matteo maria zuppi il prefetto francesca ferrandino e il questore gian franco bernabèi che renderanno l'onore alla memoria dei deportati ebrei grazie 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 ammucer benucho nepponev pachat kampi ashettina e ma allotke doshimi uti orin ezzor ha-raki ha-mazzirini eppu nishmo tiem 6-mai od rilavot al fai israel e nashim v'nashim yeladini v'aladot shenhargou v'shenisrekou v'shenitbukou v'shenikmikou v'shenikberu faiim pachat niflacot atzoririm ha-nazim v'gallut europa v'kullan kadošim, tioriim, ukiaunim v'zadikim, arzei halibanom v'adhirat tora v'gonnai dame venu kodam v'v'el ammencehu v'khen v'rashim Grazie a tutti. Alle anni dei 6 milioni i figli di Israele, uomini, donne, bambini e bambine, che vennero uccisi, bruciati, sgozzati, impiccati, sepolti e vivi per mano degli ignobili persecutori nazisti in Europa. Erano santi, puri, sapienti e giusti, integri e maestosi come i cedri del Libano, principi della Torah, sia il loro riposo nell'eterna pace. Pertanto il misericordioso unirà la loro anima alla sorgente della vita, il Signore stesso sarà il loro retaggio. Egli ricorderà in nostro favore il loro sacrificio, che manterrà per noi e per tutto il popolo di Israele il loro merito. O terra, non coprire il loro sangue. Per il loro merito possano tornare gli scampati di Israele alla loro terra, ed i martiri, con il loro metto, stiano sempre davanti ai tuoi occhi. Venga su di loro la pace e riposino tranquilli nei loro sepoltri. Amen. Venga su di loro. 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 Grazie.